Condannati in tribunale a Sondrio, il datore di lavoro e il collega dei due operai, uno deceduto e l'altro ridotto in fin di vita, vittime del drammatico incidente sul lavoro avvenuto il 2 giugno del 2017 nei boschi della Val Grosina. A perdere la vita, Dorin Petrian, 42enne romeno, ferito gravemente il connazionale Pirvoni Gavrilu, 45 anni, entrambi residenti da anni nel tiranese. I due taglialegna si trovavano nelle foreste di Cigozzo, a quota 1800 metri, nel territorio di Grosio, dove erano impegnati in attività di disboscamento per una ditta che lavorava in subappalto ad un'azienda svizzera, quando il cavo teso della teleferica, utilizzata per trasportare legname a valle, improvvisamente aveva ceduto, andando a colpire con violenza i due lavoratori, uno ucciso dalle lesioni, l'altro trasportato d'urgenza in gravi condizioni in elicottero all'ospedale di Sondalo, dove i medici gli avevano salvato la vita. Oggi si è celebrato il processo. Il datore di lavoro, un 27enne romeno, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione all'operaio che manovrava l'argano della teleferica, un 57enne, anche egli romeno, inflitta una pena di due anni con la condizionale.